Perché non si sa mai, se a cena qualcosa va storto, verrai a prendermi e scapperemo insieme lontano da qui. Ma non crederai che dicessi sul serio? Allora che cosa vuoi che faccia? Se qualcosa va storto bisogna rimediare. Sei dolcissima, amore. No! Aia, se qualcuno potrebbe vederci, dai! Si abitueranno. Ti darò un bacio ogni sera finché non ci sposeremo. Ogni sera un bacio? Ma tu sei pazzo! Sì, sono pazzo di te. Allora, buonanotte.